Musica Oggi vedremo come preparare delle buonissime caramelle alcoliche gommose Una cosa che si può fare tranquillamente a casa, è divertente nelle feste, è contenzione tenente da lontana dei bambini perché appunto sono alcoliche Per la preparazione abbiamo bisogno di più o meno un chilo di caramelle gommose, scegliete voi quelle che preferite, la marca che preferite E un'ottima vodka, mi raccomando usate una vodka a 40 gradi di alta qualità perché poi la qualità della vodka andrà a trasferirsi nella caramella stessa Vediamo come prepararla, una cosa velocissima, semplice che potete fare anche a casa Iniziamo a prendere le nostre caramelle gommose Musica Andiamo a versare sopra un litro di vodka L'importante è mescolare per le prime due ore ogni mezz'oretta, quindi 3-4 volte Dopodiché andiamo a posizionare le nostre caramelle in frigorifero Questo è il risultato dopo 24 ore passate in frigorifero Come vedete l'alto è stato completamente assorbito E anche il volume delle caramelle è leggermente raddoppiato Della stessa ricetta si può fare anche con un buon rum o un whisky Consiglio per quanto riguarda il rum, un rum bianco neutro Potrebbero andare a coprire il sapore delle caramelle E come whisky invece se volete divertirvi a insaporire oltremmodo le caramelle Un buon rye whisky o un bourbon whisky Grazie 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 a tutti.